Torretta assaltatrice traditori rilevati. Torretta assaltatrice nemica rilevata. Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata. Mina a ricerca esplosione aerea nemica rilevata. Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata. Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata. No one... Come on! Agente traditore eliminato. Agente traditori rilevata. Agente traditori rilevata. Agente traditori rilevata.